Ragazzi ho scoperto un punto segreto per prenderti una vita che ho visto che su Youtube nessuno l'ha scoperto ora ve lo faccio vedere Cioè, ho 16.018 punti, ora guardate Com'è la sono presa? Lì, visto? Ora completo il percorso Cioè, i suoi me sono rimasti appesi Bebe, ma io non schiaccio i psilon così facilmente